Buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, bentrovato nei nostri studi al Sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera Sindaco, abbiamo anche nella puntata di questa sera diverse tematiche da affrontare, molte riguardano ovviamente prettamente la città di Padova, però vorrei partire questa sera Sindaco con un argomento che riguarda anche Padova, però è un tema di cui si sta parlando a livello nazionale in questi ultimi giorni, stiamo parlando delle proteste degli studenti che stiamo vedendo un po' in tutta Italia dopo i fatti di Pisa, in parte anche i fatti di Firenze. Allora, le faccio vedere un servizio perché si è manifestato, si è protestato nel fine settimana anche a Padova, c'eravamo anche noi con le nostre telecamere, le faccio vedere questo servizio e poi magari ci facciamo sopra un ragionamento. Andiamo!